Musica Guardate che bellino questo piccolo pulcino Guardate quanto è carino Qui davvero c'è di tutto Dalla scimmia alle farfalle Finalmente i nostri cari pulcini E molto credo di dare a tutti voi Tanti a tutti Ciao 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 Buongiorno a tutti Mi trovo qui con la signora Katia Responsabile della scuola di infanzia di Bergamo Qui a Sant'Anna Parrocchia di Sant'Anna Volevo ringraziare tutti i genitori Per la loro sensibilità Verso di noi E verso i bambini del Kenya Il loro contributo è stato di Molto profitto Ad aiutare questi bambini poveri del Kenya Grazie a tutti A nome di Fondazione Sant'Anna Questo libretto è in omaggio a tutti voi Per ringraziarvi di questo aiuto Grazie di cuore Ora abbasso la parola alla signora Allora io ringrazio da parte mia Da parte anche di Don Angelo Che sicuramente è con noi in questo momento Ringrazio tutte le famiglie che hanno contribuito A comunque dare un sostegno Un aiuto Un supporto anche a questo aiuto in Kenya Grazie a tutti Grazie Grazie